La terapia della broncopneumopatia cronico-ostruttiva sta conoscendo una profonda rivalutazione, non tanto per l'uscita di farmaci nuovi, di principi attivi nuovi, quanto per l'utilizzo nuovo di farmaci che già conoscevamo. E noi ne parliamo col professore Andrea Rossi dell'Università di Verona. Allora professore, lei qui nell'incontro di Roma, dove appunto ci troviamo, ha distinto questa patologia in forme più lievi, in forme conclamate. Incominciamo da quelle lievi. Vorrei chiedere che cos'è esattamente la BPC o lieve e poi dopo vedremo come trattare. Innanzitutto che cos'è e quanti sono così, almeno indicativamente, i pazienti che hanno queste forme iniziali. BPC o lieve è un termine che rientra un po' dal passato. In realtà non esiste una BPC o lieve. La BPC è una malattia, come tutte le malattie, non inizia subito con la morte del paziente, inizia con una progressiva compromissione della funzione polmonare e questa inizialmente viene rivelata da test e da prove di funzionalità respiratoria che sono un po' più sofisticate di quelle che sono usate di routine. Il concetto fondamentale che ho cercato di trasmettere, che è recentemente anche molto supportato dai dati di letteratura tra il 2012 e il 2015, è che la cosiddetta BPC o lieve è una BPC o lieve, quindi è una malattia che va affrontata, diagnosticata e possibilmente curata. Benissimo, vediamo proprio le cure. Che farmaci utilizzare in queste forme iniziali, ma assolutamente da non sottovalutare? Allora, per quello che conosciamo attualmente, i broncodilatatori a lunga durata d'azione sono i farmaci in monoterapia che hanno la possibile indicazione nella cosiddetta BPC o lieve o nella BPC o in fase iniziale, oltre naturalmente sempre alla campagna di sospensione del fumo. Non dimentichiamo che ogni terapia della BPC o deve essere associata a un fortissimo impegno verso la cessazione del fumo da parte del paziente. Non dovrebbe aver neanche iniziato, però ormai è iniziato, quindi deve smettere. Certo, visto che ci siamo. Senta, broncodilatatori ce ne sono di due classi, i cosiddetti lama e ilaba. Quali sono da preferire nelle forme lieve, a suo giudizio? Per quello che conosciamo adesso, probabilmente i lama hanno un effetto sia per quanto riguarda i sintomi, sia per quanto riguarda la prevenzione delle riacutizzazioni, che non dimentichiamo ci sono nella cosiddetta BPC o lieve. Quindi credo che adesso l'orientamento sia più verso, se deve essere una monoterapia iniziale, verso i lama. Professore, passiamo adesso invece alle forme conclamate. Anche qui, se ci dice un po' chi sono questi pazienti, quali sono i sintomi che presentano e i problemi che qui vanno in conto. Questi sono i pazienti che vediamo più comunemente perché sono quelli che hanno sintomi anche indipendentemente dall'attività che fanno. La BPC o conclamata, quindi una malattia in cui il paziente è sintomatico, ad esempio a mancanza di respiro salendo un piano di scale, facendo le scale, e quando va dal medico, soprattutto dallo specialista, si misura una compromissione funzionale spirometrica. Questa è la BPC o conclamata. La BPC o conclamata va sicuramente curata, va sicuramente curata con i farmaci più potenti che possiamo avere attualmente a disposizione, cioè è inutile perdere tempo. Esatto, questo è proprio un concetto che lei ha sottolineato nella sua relazione. Qual è a suo giudizio l'approccio giusto in prima battuta da utilizzare in questi pazienti? Nei pazienti che hanno la BPC o conclamata e quindi hanno sintomi di spnea, ad esempio, di grado 1 salendo le scale o che hanno una compromissione funzionale, in questi pazienti l'approccio corretto da subito è utilizzare il più potente broncodilatatore che abbiamo che è l'associazione precostituita Lama-Lava. Come sostenevano i colleghi, bisogna dare i due broncodilatatori insieme e contemporaneamente perché hanno un effetto in questo modo non aggiuntivo ma sinergico e quindi in modo più potente. Ecco, questa associazione a suo giudizio e sulla base appunto dei dati attualmente disponibili è da preferire rispetto all'associazione Lava-Cortisone che viene ancora abbastanza utilizzata nella pratica quotidiana? Sì, è da preferire perché tutti i pazienti con BPCO, indipendentemente dalla loro presentazione clinica, da quello che viene così generalmente chiamiamo fenotipo, tutti hanno necessità di ricevere un potente broncodilatatore, cioè una potente broncodilatazione e quindi qui broncodilatatore. In una sottogruppo, in una popolazione più piccola di questi pazienti con BPCO, sarà opportuna l'aggiunta dello steroide inalatorio però ai due broncodilatatori, non solo al singolo broncodilatatore. Quindi la triplice terapia? La triplice che andrà nei casi che vengono selezionati perché si dimostra che risentono positivamente dell'aggiunta dello steroide inalatorio. Ultima cosa, professore. L'esame spirometrico, professore, in questi pazienti è dirimente per decidere appunto l'approccio iniziale, cioè se partire con un approccio più diciamo morbido, tra virgolette, oppure se usare subito la doppia broncodilatazione? L'esame spirometrico è fondamentale, è necessario ma non è l'unico necessario, cioè è necessario ma può essere, deve essere accompagnato da una valutazione clinica complessiva e da altre indagini funzionali come la misura della diffusione del CO, eventualmente la prova, il test dell'esercizio fisico quindi deve essere completato. È una condizione necessaria all'esame spirometrico per la valutazione ma non è l'unica, c'è la valutazione clinica e il completamento della valutazione funzionale.